L'app Immuni, lei la scarica? Cosa ne pensa di quest'app che si tiene un po' controllati? Devo ancora valutare, non lo so, sono un po' incerta su questa app. Non l'ho scaricata ancora. Perché? Perché non ho avuto l'occasione di farlo. Lei la scaricherebbe? Ci sto pensando a dire la verità. No, no, non l'ho scaricata, non tanto mi preoccupo di queste cose. Quindi app no? No, no. Al momento no, poi vedrò, ci penserò. Sono abbastanza scettica su queste cose, non per l'utilità che sicuramente c'è, però anche qua io non ho chiarezza di come venga utilizzata. Io non sono d'accordo, perché riguardo a me non la scarico. Perché non la scarica? Perché secondo me è comunque una cosa che non va bene, che mette a conoscenza di altre cose anche se dicono di no. Non so ancora come funziona e allora non lo so neanch'io. Prima vuole prendere delle informazioni? Sì, io non sono riuscita, ho chiesto a mio figlio, vediamo se riusciamo. Io non l'ho scaricata e non sono favorevole, perché potrebbe avere dei controproducenti. Sono un po' contrario. Perché? Perché siamo già super controllati anche con questa. No, quello preferisco di no. Perché no? Preferisco così. Ho letto che solo con l'iPhone si può fare, quindi non ho potuto scaricarla. Lei pensa di scaricarla o assolutamente no? No. Perché no? Non sono pregiudicato. A quelle bisogna metterle. Io no. herpiglio giudicato. Grazie a tutti! Allora?